Musica Frequentare l'Università di Catania è un segno di appartenenza. Appartenenza ad una terra, la nostra che ha bisogno di tutte le sue intelligenze per essere valorizzata come merita. La scommessa la si vince restando a giocare la partita qui, la partita di un rilancio del meridione che avete la possibilità di condurre voi da protagonisti, magari per spiccare poi un volo verso altre mete. Il livello degli studi qui da noi non ha niente da invidiare a quello degli altri Atenei e spesso i nostri studenti, che poi vanno a perfezionarsi fuori, sono i primi ad ammettere che la loro preparazione, gli altri, quelli degli Atenei blasonati, non ce l'avevano. Studiare al Dipartimento di Scienze Umanistiche è una scelta che tutti gli studenti si portano dentro per la vita. Intanto, per il luogo straordinario in cui assede il Dipartimento, il Monastero dei Benedettini, che è patrimonio dell'UNESCO e che è indubbiamente la più bella sede universitaria del nostro Paese. I nostri corsi vi permetteranno di vivere una grande esperienza di conoscenza, di confronto culturale con saperi diversi, che educano da un approccio consapevole al dubbio, al ragionamento e alla complessità. L'universo dell'arte, della letteratura, della filosofia, delle discipline performative, delle diversità linguistiche, dell'incontro tra passato e presente, non è un universo in cui due più due fa sempre quattro, ma un universo in cui la ragione dialoga con l'immaginazione e la creatività, un luogo che aiuta a crescere come studenti, ma soprattutto come persone. Una dimensione di studio che potrebbe certo sembrare sganciata da concrete ricadute lavorative, ma che in realtà, secondando una tendenza già da tempo in atto in altri Paesi, vede una costante crescita di interessi delle aziende e del mondo della comunicazione per i laureati in discipline umanistiche. In tal senso, con l'appoggio di alcune aziende partner, è stato avviato lo scorso anno il corso di laurea magistrale nell'ambito delle digital humanities, che ha riscosso grande favore da parte degli studenti. Le nuove professioni umanistiche si affiancano così a quelle più tradizionali per i laureati del nostro Dipartimento, rispecchiando pienamente a livello lavorativo lo spirito di un progetto formativo che dà lo studio del passato, trae forza per progettare il futuro. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori.